Asta deserta per l'acquisto di Cantarelli, la storica azienda Tessile Aretina. All'apertura delle buste venerdì mattina, di fronte al notaio fiorentino Pasquale Marino, si è constatata infatti la totale assenza di offerte vincolanti d'acquisto. Si fa campo dunque adesso l'ipotesi di un'asta bis che il commissario straordinario Romagnoli potrebbe indire. Era già slittato il termine disciplinare di vendita lo scorso 20 marzo. Anche in quel caso non si era fatto avanti nessuno per l'acquisto dell'azienda. Presenti venerdì mattina a Firenze anche le organizzazioni sindacali CGL e Cisleguil. All'acquisto di Cantarelli si erano detti interessati Emiliano Rinaldi, Sartoria Toscana e Fintes, che però aveva fatto un passo indietro. Ancora tutto da scrivere dunque il destino dell'azienda con sedate rontole e soprattutto quello dei lavoratori. 240 attualmente di cui circa la metà in cassa integrazione.